bene questa è la sessione di alessia benvenuti buongiorno a tutti il racconto del 5 1 e ti connetti più profondamente ad alessia 5 4 3 2 1 dimmi se la vedi si la vedo penso sia una vita passata perché è un uomo sta l'intento a setacciare il terreno per trovare loro queste tacci dove a medio oriente è un cercatore d'oro si è sempre proprio lavoro fa la cava dal fiume sestacciare dal fiume dal fiume da fiume questa vita precedente parallela di alessia la ps di alessia ti da l'autorizzazione sì 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 ok quanti vite precedenti sono 934 vibrazione 9 150 mila bassina consapevolezza 180 per cento alta psp e 45 la ps 55 la pie buono cervello percentuale di cervello utilizzata 8 e mezzo allora valori molto buoni anche numero di vite precedenti parallele basso anche se non vuol dire niente è meglio che alto perché è come se non facesse sempre le stesse esperienze sono più o meno un migliaio ripeterle vuol dire arrivare a 234 mila vite e quindi non capire la lezione no solo la vibrazione è veramente da pena neanche un milione ormai i valori che troviamo sono nell'ordine dei miliardi o almeno 800 milioni qua stiamo neanche un milione causa circa di una vibrazione così bassa allora la vedevo già un po prima che la vedo la vedevo già prima cupa molto cupa mai tenuta cupa da tutta la situazione riguardante appunto i terreni e la sua situazione economica le forze esterne fanno sì che lei vibri basso in maniera tale che segua una strada che fa sì che allora la strada che lei sta seguendo le prende tantissime energie ok ma non è abbastanza efficace per contrastare gli altri ok quello che ho visto prima è che l'ideale sarebbe che lei segua quella strada ma in un'altra maniera non so o cambia persona a cui si affida o in un'altra maniera c'è la via quella per forza perché bisogna passare di lì però è come se poteva è come se lei potesse scegliere di andare a destra a sinistra ma come se la destra non la vedesse e quindi si sente obbligato andare a sinistra limiti economica si è come se proprio c'è quella strada la parte se lei segue la strada a sinistra le sue vibrazioni sono sempre basse la fatica che deve essere estrema ok quindi ma anche magari neanche la forza per vedere una piccola situazione un dettaglio particolare o una situazione che potrebbe essere diversa diciamo che è stata portata a scegliere quella strada per per far sì che lei stia in uno stia in stallo ok quindi che continui a usarle sue energie ma che non vada da nessuna parte sanno benissimo che che lei dalla parte della ragione ok in questa maniera riescono a far sì che passi il tempo e loro possano sfruttare la situazione a loro vantaggio ok siamo capitati inevitabilmente sulla questione secondo me è vitale anche se i punti sono stati strutturati diversamente da alessia questa situazione economica finanziaria ingarbugliata lasciata da un compagno che appunto è mai venuto a mancare e che non ha sistemato le cose come dire per bene alessia non è italiana e viene quindi ingannata dai legali italiani e rigirata come una fruttata perché tanto no tanto non è in grado di prendere in mano la situazione cause sottilega di questa situazione allora io l'ho già vista prima la vedo legata al terreno è come se ci sono delle forze nel terreno particolare non so come spiegare allora vedo come se vedo un quadrato ok dove sale dell'energia da sotto ok quindi molto una vibrazione alta quindi vedo proprio che va verso l'alto ok e le persone che vogliono ottenere quello che aspetterebbe ad alessia ok hanno sono state davvero avvisate di questa di questa buona energia ti dico però a livello eterico nel senso che consciamente non lo sanno ma come se avessero un'attrazione per tenere quella parte lì ok tutta la parte economica relativa al terreno come se inconsciamente sapessero che è prezioso ok energeticamente e quindi le interferenze di queste persone fanno sì che alessia non riesca a sbrogliare la situazione che sia sempre in un circolo no quindi lei mette le energie fa quello che le dicono che deve essere fatto ma non riesce mai a sbrogliare la cosa in maniera tale che loro possano comunque prendere l'energia da questa cosa da questo terreno questo vedo ok chiamiamo tutti i parenti che alessia citato nel punto 1 e li invitiamo nel cinema in primis sorella e zia ma anche figlio tutti quelli che si presentano chi si presenta allora il figlio di fianco a lei poi penso sia il fratello nella fila dietro di lei spostato e dietro ancora la zia e la sorella un po nell'angolo si presentano poi vedo dietro una coppia un po anzianotta intorno ai 70 anni una donna all'uomo ok alessia vedrai capirà lei meglio chi potrebbero essere comunque sono tutti interessati per esempio la sorella che ce l'ha con lei che le rifaccia questo che le rifaccia quello la sorella e volete rimanere interessata chiacchiera con la zia nel senso confabulano tra virgolette nel senso di che chiacchierano e interessata è un po rancorosa nel senso come se volesse capire come fa come alessia fa a far così a essere così come a essere batte in un altro paese se si è fatta una vita una posizione certo esatto video se si vuole capire come fa quante vite ha vissuto alessia con questa sorella tre altre tre ok sulle 934 alessia ha avuto come sorella solo la parte subliminale della sorella di oggi cioè mi spiego alessia è stata ha avuto una sorella in queste vite no può essere capilato come fratello come sorella è sempre stata una ps di questa donna ecco quando ha avuto una sorella è sempre stata solo con questa qui da nuova attuale immagino di no ah no 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 anzi non la vedo sempre come sorella come la vedo come richiesto in una vita è stata matrigna posso dire sì comunque sempre invidiosa vedo l'invidia anche lì nelle altre due abbastanza neutro ogni non era un'amica una grande amica e nell'altra era la sorella più piccola quella la però dove è stata la sua matrigna la sua sorella attuale era la sua matrigna vedo la particolarità è che c'era la stessa invidia di adesso ok dare questa grande importanza alla sorella oggi però quello che cercavo di dire prima è assolutamente relativo perché nella storia dell'esperienza matrix di alessia ci sono state tante altre sorelle con altro ps quindi a questo giro lei deve risolvere l'invidia la sorella deve risolvere l'invidia nei suoi confronti ma alessia non deve risolvere un bel niente con la sorella è lì purtroppo che si presta a questo ruolo dell'invidiata no e stop quindi questo lo dico a chi mette in primo piano i propri parenti la propria famiglia è tutto molto relativo ed è tutto molto di un'importanza decisamente relativa finché vi preoccuperete di quello che pensano i genitori i fratelli parenti di tutto questo marasma di famiglia la famiglia è la cosa più invischiante che ci sia in assoluto è alto rispetto al vostro percorso personale di crescita è una colla che vi impedisce di evolvervi velocemente paradossalmente l'orfano è libero da tutto questo libero non ha famiglia ci sono dei problemi da questo punto di vista su altri fronti ma è libero da tutti questi rapporti gelosie zii e fatture invidie boicottamenti si dice eredità bistici per l'eredità scarica barile sui problemi non li ha maria paradossalmente causa di te ne cade sentirsi una pecora nera diversa da tutti gli altri ma io direi un vantaggio atto lei è riuscita a cogliere in questa vita è riuscito a cogliere più di una volta parecchie volte il messaggio che gli mandava la sua ps per andare per essere sempre più consapevole ed evolvere e quindi è questo fatto sì che facesse la differenza tutti quelli che si girano intorno a questo come al solito come a tutti come anche succede a noi ci guardano come se sei quello strano certo però invito a dalle alessia riaggiustare come ha messo il scritto il suo punto in sostanza come se fosse un fatto negativo quello di essere la pecora nera e il lupo bianco insomma di essere quella diversa evviva evviva perché la media è fatta la media è molto bassa in ogni paese essere quella vista strana ma è una festa è un vantaggio una conferma il senso la strada giusta tanto lei lo sa no che non è quella a cui mancano delle rotelle in testa lo sa perfettamente quindi che adesso lo vediamo no beh è un approccio differente all'elaborazione dei punti tutti i problemi familiari possiamo tra virgolette affrontarli non risolverli invitando i personaggi nel cinema chi prende consapevolezza bene si dà un'accelerata chi non lo fa amen in ogni caso la storia di alessia non cambia non cambia in base alla famiglia non cambia ed è giusto che sia così perché se non ha fratelli che lo invidiano e figlio unico ha un vantaggio e allora perché per fare un esempio giusto per fare un esempio perché dovrebbe avere questo vantaggio una 90 fratelli invidiosi che ha già fatto ha già sperimentato in altre vite quella cosa lì adesso non ha più necessità deve sperimentare adesso il distacco dell'invito e scegliere la sorella esattamente perché l'azienda che faceva rispetti ti dico quello è mai arrivato poi non so come se fosse lei era molto attaccata al fratello presumo sia la sorella del fratello non lo so vedo che comunque era molto attaccata presumo al papà di alessia di alessia prestava attenzione nel senso della sua figlia quindi prestava attenzione ad alessia e lei questa roba dava parecchio fastidio non so se era anche rispetto a una parte di alla parte ereditaria non so dico quello che mi viene e anche proprio come persona lei era molto attaccata al fratello o il papà di alessia al papà di alessia fratello ritorna alessia può essere un gesto col viso va bene chiamiamo il compagno deceduto alcuni anni fa è arrivato come lo vedi lo vedo un po affannato un po sudato affannato tipo è quello dice è quello che nel momento in cui sono morto è quella sensazione che mi è rimasta ok volevo mostrarla ad alessia la sensazione di essere affannato di dover fare le cose di fretto di non avere tempo e quindi di fare cercare di fare le cose di fretta e non sono riuscito a farlo perché fisicamente non potevo e quindi non sono riuscito a farlo volevo mostrare ad alessia l'ultima sensazione che ho avuto quindi come se fosse affannato e sudato lui è legato alla terra lui lo vedo legato più che alla terra può essere alla casa dove alessia si siano qualcosa di cosa sulla terra al terreno agricolo più alla casa come se con la casa riusciti la sensazione che ho è come se lui essendo attaccato alla casa pensasse di poter aiutare alessia poi è attaccato ad alessia è attaccato attraverso la casa non proprio a lei c'è se l'era in giro non la segue questo attaccamento ad alessia le genera dei problemi mette un po di confusione ad alessia nel senso che come se come se ne arrivassero più informazioni insieme quello che vedo che lei ha già delle fatica a gestire le informazioni che le arrivano dall'esterno per poter risolvere questa situazione e le informazioni che lui da tra virgolette essendo attaccato lì la mandano ancora più in confusione come se aggiungesse delle cose e quindi come la vedo un po spersa no quindi come se una volta come se ci fossero tre strade diverse e una è quella che diciamo che crea il suo compagno tra virgolette quindi è come se in questo momento fa al passo verso la prima strada dopo un attimo da lì va al passo della seconda strada e poi la terza è tutto un casino tutta una confusione perché non riesce a seguire una linea unica e pulita ok guardiamo se chiediamo al compagno chiediamo adesso mi scrive che lo sente attaccato alla testata del letto ok se io lo vedo su un muro che non so quale sia di su nel piano sopra può essere aveva attaccato proprio a un muro che sta lì così a tenere importante quello che vedi tu poi uno può avere in casa delle sensazioni insomma infatti è stata del letto che a quel muro lì mi sta facendo vedere se la testata del letto è anche posto in cui si passano i momenti più belli di intimità è stata chiediamolo al compagno e vediamolo anche da come vedi tu la cosa in eterico è stata elaborata questa stata sottoscritta questa assicurazione sulla vita e se si a favore di chi figlio o alessia allora io vedo che c'è alessia prima e può essere che ci sia un secondo nome che il figlio viene così e loro il suo nome sopra è come se ci fosse poi nel caso in cui muore non so anche lei o che c'è il figlio sotto quindi anche con che percentuali a nome del figlio di alessia con che presentare 50 è di alessia e nel caso in cui alessia non li possa ritirare perché è morta perché intende non può intendere o volere o comunque impedimenti molto pesanti ok vanno a figlio ok di non diciamo la cifra di quella cifra se ci sono che degli intercetti sarebbero degli interessi che lei non è ancora preso niente qualcuno ha ritirato questa assicurazione sulla vita allora più che ritirato io vedo che come se fossero riusciti a spostarli in un posto che non è visibile se li vedessi congelati nascosti al buio che quindi lì non appaiono più ma non sono stati siamo prelevati ma messi in un posto che non si possono rintracciare ok quindi il foglio il documento che doveva essere in mano a un avvocato un notaio è stato occultato ecco se anche se si non si trova esatto da chi dalla persona che ha detto alessia però d'accordo con con altri due uomini sì ho capito però questo compagno come ha fatto a non lasciare visto che si allora si è sottoposto al chemioterapia poi avuto un infarto è strano no ha avuto un infarto se l'avevo già visto prima io ho visto proprio un arresto cardiaco prima che lei lo dicesse ho visto che lui era morto di arresto cardiaco è istantaneo c'è una roba istantanea neanche infarto proprio se bloccato il cuore di colpo io lo vedo ti dico come lo vedo io io lo vedo che era letto mentre faceva una terapia gli si è fermato il cuore istantaneamente causa esoterica e beh non la vedo tanto leggero la vedo abbastanza pesante la cosa come se dentro alla terapia ci fosse qualcosa che che ne so potrebbe essere una quantità che dico quello che vedo potrebbe essere tipo la morfina ma in una quantità esagerata è stato un errore io vedo la vedo vedo che c'era la morfina preparata e quella lì era troppo era di preparata non so che la prepara non so che girava in casa vedo un'entità che ha fatto fare un errore a un infermiere un infermiera ecco sì perché non era chiaro sì allora un'entità allora sì sì perché non è che vedevo qualcuno che è entrato ha fatto qualcosa apposta vedo proprio che c'era la terapia e che era troppo era troppo esagerata allora stato fatto e teoricamente hanno fatto fare un errore il responsabile se n'è accorto no 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 perché era convinto che fosse giusta no c'è chi la chi l'ha somministrata dici no io sto guardando quella personali questa è la causa la morte dell'arresto cardiaco è ok in ogni caso dove ha lasciato questi documenti il compagno si fidava di uno di quei tre è come se avesse detto di te mi fido tieni tu bene da parte perché non è data la moglie la compagna ad alessia perché si deve fidare di un terzo cos'è era nome di alessia perché non li ha dati a lei è stato un po raggirato e c'è stato convincere che erano al sicuro in un altro posto secondo fatto oltre alla assicurazione sulla vita alessi ha vissuto dieci anni con questo uomo lavorando un'impresa agricola possono dire penso e ha investito del denaro in oltre al lavoro in strutture macchinari e questa parte non viene riconosciuta stesso processo sono gli stessi interessati sono gli stessi interessati quel terreno lì veramente tutto ciò che riguarda il terreno e chi dovrebbe prendere inventare il terreno a questa questa in come si dice questo blocco e loro sono se ma pensi che abbiamo proprio a tutto ciò che riguarda vediamo il lato esoterico vediamo le entità eteriche coinvolte allora c'è un vedo un felino e che è proprio la faccia la fama di leone un leone proprio poi ma penso che vedo solo quella poi vedo c'è e poi vedo due entità mentali di livello 4 di livello 5 sotto felino ed è ci sono quattro rettili e due grigi e sono quelli che che lei ha visto se quello che ne ha visto ci preferì noi dice odino ok prima di vedere l'entità mentale 45 che immagino non siano state viste nelle altre sessioni giusto chi batteva alla porta come se alla porta invece del campanello che c'è ci fosse un anello che si batteva alla porta nel passato quando non esistevano i campanelli allora per spaventarla per provare a spaventarla a livello fisico hanno proprio hanno messo lì quello che l'ha visto fisicamente con la persona che l'ha visto fisicamente che oltre a camminare l'intorno due volte è andato a fare questa cosa alla porta a bussare di proprio fa parte però tutto quello che fanno i rettili e grigi che lei vedeva di notte hanno provato a fare dell'abduction qui lo scopo è molto chiaro qui era proprio togliere la memoria qui era proprio cercare in tutti i modi di distoglierla da questa dalla dal volere la sua eredità c'è l'idea quasi dovevano provare a il terrore che tutto il terrore e poi con le abduction proprio cercare di togliergli la memoria completamente quindi c'è quasi come se avesse cioè farla entrare pian piano in una diagnosi di alzheimer o non grano in grado di coltarsi neanche più sì di coltare perché abbastanza giovane quanti sono le abduction c'è di mensa 6.000 allora dall'ultima sessione oggi le abduction sono state 50 sono aumentate rispetto al passato si sono state più intense sono state molto vicine hanno dimmi tu hanno diminuito un po quando lei iniziato accorgersi quindi che già penso un paio di mesi li hanno smesso un po lei dice di sentire e vedere navicelle militari navicelle quelle a forma di sigaro sia a casa al lavoro vedi questa situazione allora le fanno vedere se le navicelle le fanno vedere per spaventarla un po c'era per provare a spaventarla in realtà lei non si spaventa è cosciente sa è consapevole di tutta quella parte lì e quindi alla fine non è che si spaventa più di tanto che molla tutto come invece sappiamo qualcuno l'ha fatto no vabbè certo questo questo per loro a lei non con lei non funziona ma erano navicelle a forma di sigaro cosa sono queste navicelle erano simbolo grandi ma esistono i sigaro navicelle ma io si vero come se c'è quello che vedo io sono dei cosi i cili specie di cilindri 4 ok no di solito sono ologrammi io non le vedo come navicelle vere ok ci sono militari che vanno e vengono in casa e nella zona di lavoro ci sono delle navicelle che girano sopra la casa o sopra la zona di lavoro vedo più qualcosa già prima quando lei lo descriveva io non vedevo tanto quello sono quelli che li fanno vedere in cielo sono ologrammi che dove c'è sotto in quel terreno lì c'è proprio anche tutta una cosa così c'è una base piccola è tipo una cosa che come si dice un laboratorio su cursale si è una piccola laboratorio dati si fisico e terrico fisico ha proprio fisico sotto quindi i tipi legati a all'eredità sono legati a quella base si è se come se avessero qualcosa a che fare con se fossero stati assunti tra virgolette da quelli che lavorano nella base di sotto c'è però tramite non cosciamente ok livello eterico vengono interferiti in maniera tale che lavorino per loro importantissime le due entità mentali 4 5 compiti della 4 i compiti della 5 allora la 4 ha il compito di tenerla legata a tutto ciò che dallo schema di famiglia alla parte senti sentimento ok quindi non come se si sentisse farla sentire quasi in colpo quasi non adeguata per essere una buona ragazza di famiglia famiglia intesa proprio genitori fratelli no nipoti in tutto il contesto familiare ok quindi quasi come se fosse l'è sbagliata rispetto agli altri ok quindi lei fa la sua strada segue quello che lei sente ultimamente poi negli ultimi anni segue riesce spesso a sentire cosa cioè c'è a essere in contatto con la sua ps ok quindi fa le scelte che la fanno stare bene la dritta e poi dopo arriva l'entità di livello 4 e le manda al pensiero proprio il sentimento che lei è fuori posto e lei quella inadeguata e lei quella sbagliata e quindi la fa sentire colpa invece quella di livello 5 è quella che fa sì che lei sia allora come se le lanciasse tante come descriverte vedo proprio l'immagine non vedo alessia che deve avere a che fare con la società quindi a livello sociale col mondo tutta la sua vita di tutti i giorni e vedo l'entità di livello 5 che come se spavasse delle frecce di messaggi ok quindi ok qua devi dire questo dopo tre secondi di questo di questo è come se le mandasse tante informazioni nello stesso momento contrastanti tra loro ok e quindi lei si trova un po spiazzata vedo una cosa del genere non so lei non c'ha raccontato nulla del genere ma io vedo come se non riuscisse a alcune situazioni non riuscisse a fare un discorso coerente con la situazione un po confusionario quindi alla fine poi prova iniziare il discorso e poi smette perché che quello con chi tentano di far passare al suo la sua carico no la la straniera confusa la straniera qualche modo anche a senso ok ci sentite di alle sì ce ne sono tre uno che lavora con lavora tra virgolette che lavora per l'entità di livello 5 le altre due dentro sono fissi dentro per l'entità di livello 4 sono arrivati dopo la l'ultima sessione sono tornati se si sono tornati questo succede praticamente sempre anche che ha fatto già sessioni comunque l'identità mentali ci rimangono perché prima non si vedevano ok quindi vengono tolti di dl ma loro di richiede come se le richiamassero no ok quelle altre due altre tre li ricreano perché la sorgente è stata sessile dell'interferenza è stata lasciata lasciata di fatto questi nuovi certi stessi probabile che l'interferenza senza probabile di solito anche l'interferenza eterica di cui il dl e l'inizio torna anche se spesso blanda magari un'entità o due leggere un falconiforme che così a supporto poi col tempo potrebbe anche rinforzarsi quella di fatto abbiamo capito perché molti tornano nel problema non bisognava analizzare ma all'epoca non si vedevano le entità mentali il concetto di interferenza di natura mentale fatto ok causa esoterica della non simpatia per la tecnologia diciamo allora la vista già prima è una sua vita passata una delle prime dove lei ha avuto a che fare con già le tecnologie che c'erano allora quello che lei ha detto prima descritto prima rispetto a una piramide con l'energia sopra ok riguardava quella vita lì come se lei come se la sua ps gli avesse fatto rivivere una cosa che aveva già vissuto in quella vita la quindi lei ha avuto che ha detto no che come se la tecnologia mi sta antipatica perché come se mi facesse del male ok in effetti in quella vita la c'erano la tecnologia era molto molto sviluppata e vedo proprio che lei è stata come se ci fossero stati degli esperimenti che volerano essere degli esperimenti di prove per vedere se si il corpo poteva stare meglio no come se fossero stati di specie di elettroshock ma di tutto il corpo non so come dire no quindi vedo una pare un tipo vedo tipo una spirale potrebbe essere una tipo serie torre di tesla ma in miniatura ok volta così che veniva collegata al corpo per vedere se così se con questa cosa una persona che aveva un malessere provavano un po con tutti i tipi di malesseri potesse stare meglio ok e l'avevano sperimentato su di lei e però dopo una decina di sedute invece di stare meglio è stata peggio ed è morta dopo poco questa cosa evita perché che cos'era questo periodo con l'alta alta del livello di tecnologia quando 400 mila anni fa ha un nome questa tampa ma sulla terra era sulla terra era c'è tampa era il piccolo borgo tra virgolette borce tribù la sua tribù aggregato di persone comunicata la civiltà faceva parte dei titani già può essere gli viene titani però non so se c'erano già la parte che sappiamo che la storia un po così quindi quello che mi viene quello la civiltà era titani ma la tribù la comunità dove era lei era tampa era piccola non era tanto ma adesso si chiede se ha una vita precedente o più parallela precedente con il figlio perché ha un forte e belle e belle legame con appunto con il figlio sono stati fratelli sono stati fratelli più qualche vita ma quella che la ps mi fa vedere per questo forte legame quella in cui sono stati fratelli ed erano ok erano sorelle fratello e gestivano una vecchia una chiamata rosteria vedo sempre tipo in una zona di mare dove arrivavano le navi e le barche come di commercianti di commercio più pieno macedonia la zona lì però è stata una bella vita loro andavano molto d'accordo grazie grazie al padre sono riusciti a diciamo a creare questo questa attività e loro andavano molto d'accordo è andato molto bene loro rapporto in quella vita è molto sereno ok va bene che altro apriamo il portale aureo al compagno e chiediamoli prima di andare la consapevolezza che sarà staccato da tutto quello che è terreno che non avrà più la convinzione di aiutare in questo modo alessia anche perché non l'aiuto in questo modo e la consapevolezza di andare verso la direzione in cui lui vuole deve andare come energia non come compagno uomo italiano eccetera chiediamogli un ultimo messaggio ad alessia dice grazie per avermi dato l'opportunità per capire come funziona per vedere tutto questo che ringrazio dal profondo che ho voluto tanto bene dice come lo vedi adesso lo vedo come se fosse vuoto non è voce vuoto non rende bene nel senso vuoto sembra negativo ma in realtà è come se avendo visto come funziona fosse libero da tutte le emozioni terrene ok quasi come se fosse già l'energia del portale aureo non so se venga l'idea bene lo sono già come se fosse che che in tribù e vediamo che succede in tratto è diventato l'energia del portale aurea ok prima di chiuderlo mettiamo un ad eterno da un piccolo sole che abbiamo inventato qualche settimana fa qualche giorno fa che emana vibrazione ad alta frequenza per sempre ad eterno ma significa questo in latino per sempre davanti a questo portale aureo e attiriamo tutti gli umani disincarnati che vogliono avvenire in primis tutti quelli di tutta la famiglia anche allargata quindi bisnonni bisnonne tris nonni tris nonne di alessia ed è compagno tutti ar alberi genealogici interi del compagno e di alessia e di chi si vuole presentare e sono arrivati in 300 tutti dentro se uno o due in particolare vogliono dire qualcosa evviva no tutti dentro chiediamo il portale aureo e adesso insegniamo ad alessia è un eterico a costruirsi questo solino ad eterno lei lo può costruire formare creare uno ad alta altissima frequenza supportarlo da una pillola vic vibrazione informazione consapevolezza vibrazione l'alta vibrazione può essere creata a piacere senza un limite informazione di tutte le sessioni consapevolezza risultante del tutto si crea questo solino piccolo sole e va nel suo corpo e emozionale quello che ho visto è che il momento in cui ha messo nel suo corpo emozionale la d'eternum come se fosse stata una molla quindi tutte le emozioni a vibrazione bassa sono state catapultate fuori e tutto diventato vibrazione altissima ok andiamo nel suo corpo mentale non nella mente collettiva le entità con le entità mentali proprio il suo corpo mentale e ne mettiamo uno anche lì questi che mettiamo restano solo lei li può togliere solo lei perché le ha messi lei le entità non possono neanche vederli figuriamoci toglierli avvicinarsi toglierli non è possibile sono dei piccoli soli che ma c'era però esatto sono state attrazzate vibrazioni all'istante vibrano proprio altissima libero proprio altissimo il corpo mentale anche un corpo fisico un alto solino anche di tutto altissimo e corpo eterico il grande spirito la forza vitale di alessia corpo subliminale l'ultimo la ps se ne mette uno in testa e ne mette uno in tutte le 934 vite o quelle che vorrà mantenere fra poco dove alessia è uomo donna donna uomo uomo donna donna uomo ha fatto selezione delle vite che gli serve ancora a mantenere andiamo al cluster lucio sì andiamo al cluster savo di non sentirti come se vedessi dei sottopiatti col burdo un po cicciotto come se fossero dei contenitori corrispondono alle vite che la ps ha voluto mantenere nel senso che prima quando abbiamo messo gli ad eterno quando ha messo gli ad eterno nelle vite che voleva mantenere è come se le altre fossero già state messe da parte anche come se fossero entrate in un angolo buio visto prima quindi qui sono stati mantenuti solo i contratti di quelle vite lì e che sono 527 le vite ok come li avete i contratti come erano visibili come se fossero dei piccoli piattini dentro questi contenitori che ogni piattino è un contratto ok come vedi quelli con le entità mentali livelli differenti questo caso allora in generale sono un disegno su piattino quindi diciamo il disegno del contratto di quello che significa ok e per quanto riguarda i contratti delle entità mentali vedo il disegno ma è fatto come se fosse tutta corrente fatta di energia elettrica tipo esatto il disegno è fatto di energia elettrica ok andiamo all avatar ok vedo lo spicchio vedo lo spicchio un po più grande rispetto al solito quindi quasi un quarto di avatar ok e c'è tutta una parte che è ben distinta sono due parti distinte una è proprio riguardante l'interferenza eterica ok l'entità l'altra è riguardante le entità mentali proprio distinte hanno un colore diverso quindi quella dell'interferenza eterica è più colorata ok quindi a tutti i colori dell'avatar quindi il legno il contorno intorno bianco invece lo spicchio delle entità mentali come se si vedesse la parte elettrica come prima con i disegni del via tutto al cluster ok se le vuole farlo se si vuole tenere la valutazione o la sottorizzazione posso operare in sua vece ma in molte cose importanti le deve fare lei così che io abbia la sicurezza che sto agendo nel suo interesse aperto portale definitivo e adesso lanciato dentro tutto ok e la chiusa ok odino felinoidi quattro rettili 2 e 3 dl si sono ancora attuali situazioni di abduction sono ancora attuali no e 32 entità mentali 45 esistono ancora dato quando non sono uno scherzo solitamente 23 1 2 1 2 3 4 5 già iniziamo a salire magari casi 6 7 8 9 quasi mai trovato il 9 e l'8 siamo arrivati fino 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 al 67 per caso in alto quindi non sono proprio uno scherzino uno la fa sentire sbagliata ma al quarto livello vuol dire che è bella pesante se l'altra lo fa la fase a dire confusa diciamo informazioni distoniche dire una cosa per il suo posto o perdersi nei discorsi ma a livello 5 vuol dire che è una roba proprio pesante 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 evidente evidente bene non so più non c'è più nulla e la ps come la vedi la ps la vedo che vibra altissima faccio descrivertela con un entusiasmo ma entusiasmo fiducioso propositivo spinta in avanti sono contento perché invece non vedo alessia tanto felice ti vedo molto a no che sei felice ok ti vede un po apatica così come se fossero delle storie che non ti riguardano sono storie che ti riguardano questa la parte energetica tua ok a quanto vibra alessia l'avevamo lasciata a 950 mila che sembra tanto ma non è praticamente niente dopo due sessioni poi è molto molto basso a quanto vibra adesso adesso venduto tutto con la parte la in questo momento a 2 miliardi e mezzo salirà avete sale si la vedo proprio che sale tanto e arriverà in una settimana arriva a 25 miliardi bene vite precedenti numero 5 2 7 come hai visto già passate o meno se si più ha ottenuto quelle 9 527 e percentuali di consapevolezza 210 era già alta era già alta comunque l'alzata psp e 60 ps 540 si sono un po invertite si stabilizzeranno no come sempre in grado e stesse percentuali di cervello utilizzata 9 ma che è alzata anche questa prima di chiedere messaggio finale di alessia psp e a se stessa vediamo nel cinema partendo dal figlio importante quali sono gli effetti e dando per fatto la elargizione di una pillola vic tutti quelli che sono venuti che se vogliono la prendono se no no e l'istruzione per crearsi da soli un solino ad eternum che se vogliono queste se le prendono se vanno e basta e non sono gli obbliga sono venuti sono curiosi offriamo non sono venuti non sono curiosi non offriamo perché non sono venuti venuti smettono di essere curiosi e non prendono a me va bene lo stesso non è mai una coercizione ora che sei qua devi comprare le padelle il figlio molto entusiasta molto felice molto orgoglioso di essere figlio di una mamma così mi piace proprio fratello lo vedo come se avesse capito cos'è sua sorella che quindi il fratello di questa non chiarito di volte un fratello adesso si è un fratello abbo si 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 era chiaro come se avesse capito cos'è alessia quindi finalmente ha capito e vedo più rilassato meno confuso la sorella via ora segnate ma non è che sono c'è la serie ok a tutto questo lei funziona così funziona tutto così un po come se fossero rassegnate ma non è che sono contente ma sono cose pubbliche a te che questo funzionamento le riguarda non riguarda solo alessia sì allora sono consapevoli ma come se fossero neutro in questo momento come se non fossero pronte a prenderlo i crea la de ternum il fratello e figlio e la coppia di vecchietti dietro non so chi sono ma lo creano l'anzia la sorella no va bene li salutiamo tutti la prima è finito quindi possono tornare nei dei rispettivi luoghi grazie per aver visto il film e tanti saluti vediamo il messaggio finale che la ps la pia vogliono lasciare relativamente anche alla questione eredità come procedere cosa fare e in generale ovviamente se hanno la ps dice ad alessia lanciati come se tutte le volte dovessi fare un volo con il deltaplano ok quindi tu datti la spinta e poi fatti portare dalla corrente quindi scegli dice scegli la montagna da cui lanciarti ok ti lancia e poi ti fai portare dalla corrente non non ascoltare le voci intorno di di quelli che hanno paura del tuo volo segui sempre una volta che tu scegli la montagna lanciati dalla montagna e lasciati trasportare quindi rispetto a questa situazione quello che vedo è come se dicesse affidati a persone completamente fuori da tutta questa cosa ok quindi anche in un posto anche affidati anche a persone che non è che devono essere per forza uno studio studio legale enorme anche solo uno studio legale molto piccolo in una zona sconosciuta lontana format esatto perché grandi sono tutti un po in contatto no sì è come se dovesse ricomincia tutto da capo un po in sordina fatta in maniera più quello quello che vuole dire certo sì come la vedi la vedo la vedo che ha seguito e contenta di seguire quello che la psl ha detto quindi la vedo come se avesse già l'imbraccatura di una deltaplano ok di un parapendio si può essere due però lì ferma come se stesse aspettando il momento per lanciarsi ecco la pronta va bene abbiamo finito quindi elena disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo